Ciao a tutti, come far uscire una persona da uno stato d'animo negativo, da un'emozione negativa? Uno dei modi più semplici è quello di utilizzare il ricalco dell'emozione negativa, dell'emozione che questa persona sta vivendo e la magia della parola ancora. Ad esempio potrei dire a una persona, beh, vedo che sei ancora triste, ma è semplicemente perché non sei ancora uscito con me una sera, questo ti renderebbe immensamente più felice. Ora io ho ricalcato, diciamo, questa situazione della persona e poi l'ho associata a vivere un'emozione positiva facendo qualcosa che a me va. Quindi questo è un modo per sedurre le persone, per coinvolgerle, perché diciamo che così tutti noi andiamo alla ricerca della felicità. Questo è innegabile, solo che spesso non sappiamo come trovarla. E quindi lo schema è vedere una persona che sta vivendo in quel momento, quindi avere la capacità di empatia, di capire che una persona in quel momento sta vivendo un'emozione negativa. Quindi questa è la prima cosa, perché ovviamente non è che posso dirla a qualcuno che non sta vivendo un'emozione negativa. Questa è la capacità empatica, è la capacità che hanno i seduttori, le seduttrici naturali e poi ricalco quella cosa, quindi la estrinseco, la faccio venire fuori e la associo, diciamo, ancora. Quindi vuol dire che ti do la possibilità di uscire fuori, non sei ancora uscito fuori, ma uscirai non appena verrai a cena con me, perché ti farò morire dalle risate, che ne so, qualunque cosa tu vuoi mettere, puoi metterlo, insomma. L'importante è metterlo proprio nel momento giusto e nel modo giusto e questo ti consentirà di ottenere dei grandi risultati. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube Massimo Terramasco, crescita personale con Massimo Terramasco, felicità, benessere, amore, autostima, attivando la campanella e ti ricordo che sui canali, se non l'hai ancora fatto, c'è la possibilità di abbonarti per avere la possibilità di migliorare veramente la tua esistenza. Inoltre puoi seguirmi su Instagram, sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco e su TikTok. Ciao!